È operativo nella Galleria degli Uffizi il sistema di gestione degli ingressi realizzato dall'Università dell'Aquila, che dice stop alle code. Dopo due anni di intenso lavoro e una collaborazione proficua tra i vari dipartimenti dell'Università dell'Aquila, è stato reso operativo il nuovo sistema d'accesso al complesso museale, che è in funzione durante le domeniche gratuite. Il progetto è ancora esperimentazione, ma i primi risultati sono già positivi, perché domenica 7 ottobre, ad esempio, ci sono stati 7.765 visitatori con una coda media di mezz'ora contro le due ore precedenti l'adozione dell'algoritmo. Il sistema è basato su un tagliando emesso da chioschi interattivi sotto il loggiato degli uffizi, che al momento dell'arrivo del visitatore assegna l'orario giusto di visita, quello in cui, ripresentandosi all'ingresso, non dovrà attendere per entrare. L'orario è calcolato con un modello statistico raffinato in un biegno di raccolta dati, che considerano tempi di visita e variabili della giornata, in base a svariate tipologie di informazioni, messi a confronto con i dati storici dei flussi del museo. Così l'algoritmo, che costituisce il cuore del sistema, permette di massimizzare la capienza del museo nel rispetto dei suoi vincoli strutturali e individuali, con esattezza al momento in cui dare appuntamenti ai visitatori. Ancora una volta l'eccellenza aquilana di Univacu in evidenza.